Sono entrato all'Università di Ferrara come ricercatore nel 1995 dopo aver ottenuto il dottorato di ricerca presso l'Università di Bologna. Sono poi successivamente diventato professore associato nel 2002 e professore ordinario di analisi numerica nel 2007. Le esperienze più significative sono state sicuramente quelle all'estero, dove ho trascorso molto tempo, soprattutto in Francia e Stati Uniti. Direi sicuramente quelle come visiting professor nel 1998 presso il Georgia Institute of Technology di Atlanta e nel 2001 presso l'Università del Wisconsin-Madison. Ero già stato direttore del precedente dipartimento di matematica dal 2009 al 2012. L'impegno oggi però è notevolmente più gravoso. La riforma introdotta dalla legge Gelmini ha spostato sui dipartimenti anche tutte le responsabilità relative all'attività didattica con la soppressione delle facoltà. Diventare direttore è stato chiaramente un impegno e anche un onore, soprattutto essendo cresciuto in larga parte all'interno di questo Ateneo. Dal mio punto di vista lo vivo come un ruolo istituzionale che ha il compito di garantire a tutti i componenti del Dipartimento una struttura di supporto scientifico che sia efficiente ed il più possibile innovativa. Come corsi di laurea noi abbiamo due anime all'intorno del Dipartimento, ossia abbiamo il corso di laurea in informatica e i corsi di laurea triennale e magistrale in matematica. Entrambi i corsi di laurea garantiscono un elevato livello di occupabilità ma soprattutto direi che in una società mutevole come la nostra entrambi i corsi di laurea garantiscono delle competenze che non sono semplicemente mirate a fornire una serie di conoscenze ma una metodologia sia di ragionamento sia di analisi che consente di tenersi al passo con l'evoluzione tecnologica del settore per quanto riguarda l'informatica e la capacità di adattarsi e interagire positivamente a tutte le situazioni per quanto riguarda la matematica. L'occupazione è in tantissime aree, le più differenti e come dicevo i dati sono confortanti in quanto dopo un anno nell'ambito dell'informatica ci danno un livello di occupabilità superiore all'80%. Il nostro dipartimento appunto ha sicuramente un'omogeneità scientifica che è molto evidente però ciò che probabilmente lo caratterizza di più è la natura fortemente trasversale dell'attività didattica. È infatti il dipartimento tra tutti quelli del nostro Ateneo che è impegnato sul maggior numero di corsi di studio a livello di Ateneo svolgendo appunto tutto l'insegnamento della componente matematica in particolare per tutti i corsi di studio dell'Ateneo di Ferrara. Sicuramente una delle caratteristiche dei nostri corsi di studio è il rapporto docenti-studenti che è molto buono e che ci consente dunque di seguire ogni studente con grande attenzione e quindi c'è grande disponibilità da parte del personale docente. Inoltre in generale i servizi sia di tutorato didattico che di supporto alla didattica così come gli aspetti logistici collegati alla struttura dunque le aule, le sale studio, le biblioteche, i laboratori, tutto l'accesso alle strumentazioni informatiche, alla rete wifi del nostro dipartimento sia nella sede di Via Machiavelli che nella sede relativa al polo scientifico tecnologico sono tutte molto recenti e di ottimo livello qualitativo. I progetti principali riguardano l'internazionalizzazione dell'attività didattica in particolare. Dal prossimo anno infatti sarà attivo il corso di studio a doppio titolo in matematica con l'Università di Orléans in Francia che è uno dei pochissimi corsi di studio magistrale in matematica a doppio titolo a livello italiano. Inoltre diversi corsi nell'ambito della laurea magistrale in matematica saranno tenuti a partire dal prossimo anno in lingua inglese. In questo caso la risposta non riguarda nello specifico probabilmente i corsi di studio che seguo più da vicino ma sostanzialmente tutti i corsi di studio, ossia uno studente neoiscritto deve cercare di sfruttare al meglio tutte le possibilità che gli vengono offerte dall'Ateneo e sono moltissime e in particolare conseguire una certa esperienza all'estero sfruttando la possibilità di svolgere periodi di studio all'estero e qualora abbia interessi soprattutto per quanto riguarda l'ambito del lavoro inserirsi anche nei percorsi di inserimento lavorativo organizzati dal nostro Ateneo. Come ultimo consiglio mi sento di dare ad uno studente laureato soprattutto, uno studente italiano che spesso vede delle incertezze nel suo futuro, di non avere paura di mettersi in discussione e quindi di fare certe scelte soprattutto che possano comportare una certa componente di rischio, di innovazione, di sfida anche appunto a fronte magari di nessuna certezza particolare dal punto di vista poi delle opportunità lavorative immediate. Confesso di essere sempre stato estremamente critico nei confronti del sistema universitario italiano. Oggi mi trovo a svolgere appunto un ruolo istituzionale, devo dire sia come direttore di dipartimento e anche come delegato del rettore alla didattica. Ho avuto modo di vedere più da vicino quelli che sono i problemi dell'università italiana. Vedo sicuramente tre aspetti che rappresentano le tre criticità principali. Il primo, senza ombra di dubbio, è che è un sistema sottofinanziato. Non si investe sull'istruzione, in particolare sull'università, ed è difficile fare funzionare una macchina, diciamo, senza benzina. Il secondo punto è la difficoltà in generale nel sistema italiano ad instaurare un sistema che sia effettivamente meritocratico. La meritocrazia viene spesso sbandierata come nome, come aspetto importante, ma all'atto pratico a tutt'oggi vedo estremamente difficile la realizzazione di un sistema basato realmente su principi meritocratici. E di questo sono penalizzati soprattutto i giovani particolarmente capaci. Il terzo punto è quello che trovo, soprattutto dopo la notevole esperienza all'estero, più caratteristico del sistema italiano. Questo continua e costante aspetti burocratici associati ad un numero di riforme incredibile, altissimo, che ogni anno vengono implementate e che non fanno nient'altro che tenere fede al famoso detto di cambiare tutto per non cambiare nulla. Nonostante tutto questo devo dare un segnale positivo comunque, ossia che il livello medio di formazione dei nostri laureati resta comunque tra i più elevati a livello internazionale. Questo grazie sicuramente alla buona formazione scolastica secondaria che viene impartita e anche all'impostazione dei nostri percorsi di studi all'interno delle università. Diciamo che sono sempre stato una persona molto piena di impegni di diversa natura. Per oltre 20 anni ho praticato attività sportiva agonistica, ho militato anche in Serie A1 di Pallamano proprio qua a Ferrara. Quindi le attività sportive e l'attività all'aria aperta restano una delle mie passioni. oggi in particolare mi piace quando il tempo lo consente di dedicarmi alla pesca sportiva e alla mountain bike. Al di là di questo, diciamo, le attività con la mia famiglia, in particolare con le mie due figlie, Ludovica e Valentina, di 5-9 anni, sono sicuramente quelle a cui mi dedico quando riesco a avere un po' di tempo libero. Per il tempo libero. Grazie a tutti. Grazie a tutti.